PAPA BRIRGEO PAPA 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 Hola, soy Francesco Razzini, artista visual e illustrator, mio spazio di trabajo. Mi desempeño come professionale nel area della illustracione e della comunicazione visuale da hace unos 10 anni. Realizo contenidos con una amplia varietà di tecniche, da le più tradizionali fino ai nuovi migliori digitali. Però, tutte le tecniche per me restano a un medio e non a un fin. Sono strumenti che utilizzo per arrivare a quello che mi interessa, generalmente, a stabilire un dialogo, a expressare un contenuto, a illuminare un'idea. Dentro di tutto, mi considero un dibucato. Il dibucato è l'istrumento primordiale, per me è un sismografico di emozioni, la mia forma di respirare, filtrare, riproducire il mondo che vedo. A travesse di lui, devo pensare la mia mano. Quando la mano pensa, si creano, inesperate alchimie, rompo con i blocchi del mio cervello. Il giorno di oggi, voglio raccontare il processo creativo con il cui io arrivo al risultato delle cose. Mi sto dando un reto, sia lo di rappresentare un concetto in specifico che è abbastanza appropiato. Come viveremo insieme? In questi video, vi raccontare alcuni dei ricursi che abbiamo a disposizione al momento di realizzare una idea. E spero che il mio processo serve come un riconoscimento nel caso di che ci sia il reto di illustrare un contenuto, o raccontare una storia o, perché non, divertiremo un po' del nostro amico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Gobierno de México Informazione dei corretisti Per fare meni di ricordка